Questo è il primo consolato che lo apriamo a Bari, della Repubblica di Macedonia e perciò avrà un signo efficativo più importante. Dalle parole dell'ambasciatore Velidorto Paloschi si intuisce che quella inaugurata a Bari potrebbe non essere l'unica sede in Puglia del consolato di Macedonia, ma quel che è certo è che da questo momento in poi i rapporti commerciali e culturali già esistenti tra la Puglia e la Repubblica Macedonia saranno ancora più intensi. Allora ecco oggi, il primo marzo, un giorno significativo, inizio del mese abbiamo inaugurato questo consolato, abbiamo un ottimo consolato onorario che sono sicuro che ci rinforzerà i rapporti economici e culturali tra la Repubblica di Macedonia e Puglia. La Puglia è una delle regioni italiane più vicine geograficamente alla Repubblica di Macedonia, perciò sono sicuro che tutti i rapporti commerciali, economici e culturali vengono rinforzati da oggi in poi. Non è che precedenti non ci sono stati, comunque adesso siamo sicuri che ci saranno molto più intensi.